Si è tenuto ieri sera il Consiglio Comunale di Battipaglia. L'Assise ha approvato il bilancio consolidato 2017, una variazione di bilancio, il conto esecutivo dell'esercizio 2017 dell'azienda speciale Pignatelli e ben 10 punti relativi a debiti fuori bilancio. Il bilancio consolidato del 2017 del Comune di Battipaglia, che è stato redatto con il metodo proporzionale, si chiude con un utile di 1.813.541. mentre l'utile del Comune è di 3.286.748. Il risultato scaturisce dall'insieme di tre gestioni, la caratteristica, la finanziaria e la straordinaria. La caratteristica è data dalle attività tipiche, in relazione alle quali si conseguono proventi e si sostengono costi, per così dire, di produzione. Quella finanziaria, che è relativa alle operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e degli investimenti finanziari, e la gestione straordinaria, che riguarda le operazioni non strettamente tipiche. In ultimo, evidenzio soltanto alcuni dati che ritengo significativi, oltre a quello dell'utile che già si è detto, sia del Comune che l'utile da consolidamento. Si evidenzia quale è dato il patrimonio di terzi, che è pari a 426.504 euro, e la differenza di consolidamento, che è pari a 1.999.574, che è originata dalla differenza tra il valore delle partecipazioni, così come presenti nel bilancio, e il valore delle partecipazioni nel bilancio delle partecipate stesse.